facebook per bed and breakfast e come utilizzare questa piattaforma di meta per ottenere più clienti per il nostro bed and breakfast bene lo vedremo in questo video ciao a tutti sono Alessia bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video questa volta dedicato a facebook e ai bed and breakfast vediamo insieme come sfruttare questa piattaforma e faremo in modo di ottenere più clienti possibile all'interno della nostra struttura prima di iniziare però non ti scordare di iscriverti al mio canale di attivare le notifiche così da non perdere tutti i miei video e poi se sei un bed and breakfast e vuoi migliorare le tue conoscenze sui social e ottenere sempre più risultati grazie a queste piattaforme ad aprile io organizzerò un corso live per B&B dove insegnerò tutti voi direttori di B&B proprietari di B&B come gestire meglio la vostra presenza sui social attenzione i posti sono limitati scrivetemi a corsi chioccio alessabocconfuso.com per maggiori informazioni ma veniamo all'argomento del giorno facebook facebook perché lo dobbiamo utilizzare bene ragazzi io vi ho fatto già un video dove abbiamo parlato se facebook è morto o meno so che il cugino la parente di turno vi ha detto ma facebook è morto non c'è andare lì non perdere tempo beh in questo video dove che vi dico dose che facebook non è in realtà morto io vi porto dei dati delle ricerche che affermano il contrario quindi dopo che vi siete visti col video e quindi ora mi credete che facebook non è morto vediamo come utilizzare al meglio questa piattaforma bene qui è un ottimo modo per mettere il risalto il nostro B&B e molti diranno sì vabbè ma io ho due tre camere ma che devo fare che devo dire quindi essendo voi accolto di idee non sapendo come sfruttare la piattaforma riducete sempre lo stesso modo ovvero a fare dei post dove mettete la camera a volte non mettete nessuna didascalia a volte mettete una frasetta così e quindi pensate di fare comunicazione online efficace e poi giustamente nel momento in cui non arrivano i clienti non arrivano le prenotazioni cosa dite beh facebook non ne funziona allora è vero che è morto non serve nulla bene partiamo dal fatto che comunque fare tutto in organico quindi senza metterci il budget delle ads serve a ben poco ma parliamo dei contenuti pensate prima di tutto alla vostra struttura voi chi siete a chi vi rivolgete e qui torniamo sempre a monte e le risposte sono ma io sono un B&B c'ho tutto il camera e finisce qua no pensate a voi siete in un palazzo storico siete un appartamento normale va bene magari in questo caso non c'è nulla che vi contraddistingue ma ci sono B&B che sono in città in campagna al mare ecco dipende anche dalla vostra posizione siete strategici per un determinato motivo quindi anche la posizione può fare la differenza sfruttiamo quello che c'è attorno a noi magari le persone vengono nella vostra città o comunque dove vi trovate voi perché ci sono delle zone di interesse e mo c'è il vigneto e mo li fanno i concerti perché c'è lo stadio e mo magari c'è un ospedale e quindi siete vicini all'ospedale e ci sono le persone che hanno bisogno di un soggiorno perché parliamoci chiaro i B&B non sono solamente per vacanza magari sono in una posizione strategica non vicino all'ospedale ma vicino a un tribunale e quindi le persone che vengono per le udienze hanno bisogno di un B&B per la notte bene tutte queste informazioni le dovete dire voi le dovete far capire voi ai vostri utenti fare un post o una volta ogni 10 anni che dite siamo vicini al tribunale finisce lì ma non mettete i vostri punti di forza c'è la colazione? Bene magari è una colazione che potete preparare voi adesso non stiamo a parlare di permessi ovviamente parliamo di tutto quello che potete legalmente fare bene comunicatelo e se non c'è la colazione e magari è comprare al bar bene che tipo di colazione viene offerta al bar? perché so di B&B alla quale io ho fatto corsi di formazione oppure comunque mi sono occupata in genere della loro presenza online che facevano delle colazioni da urlo offrivano delle colazioni da urlo al bar quindi non era semplicemente un cornetto confezionato diciamo vai al bar prendi quello che vuoi e va bene così è incluso nel prezzo ottimo io questa cosa la devo sapere soprattutto se abbiamo un target di italiani che basano molto la loro scelta in base alla colazione e se ho delle soluzioni per celiaci bene comunichiamo anche questo le nostre stanze che cosa hanno le nostre stanze magari di particolare possono avere una vista all'interno possono avere magari la macchinetta del caffè possono essere spaziosi rispetto ad altre c'è o non c'è il bagno in camera e questo me lo dovete dire ecco sono tutte informazioni che a me utente interessano per poter poi venire a prenotare da voi quindi in questi pochi minuti pensate già a quante idee io vi ho dato per poi andare a prendere e pubblicare sui social ma nel momento in cui ci sono degli eventi attorno a voi beh io vi seguo? perfetto ricordamelo se io ti seguo vuol dire che ho già mostrato interesse per te magari ho già soggiornato da te bene cosa facciamo? noi ti andiamo a informare che ci sono questo tipo di eventi magari sei interessato a tornare e soprattutto ti dico ciao io sono qui perché voi date per scontato che le persone sono venute da voi una volta e poi si ricorderanno per sempre di voi purtroppo non è così e non è così perché voi siete un B&B succede anche con i grandi alberti purtroppo può accadere che il soggiorno non sia stato memorabile e quindi le persone in questo tipo di strutture B&B, hotel non restano impresse nella mente per sempre però si sono trovate bene abbastanza da poter ritornare da voi un giorno ma vi dovete dire ciao io sono qui magari c'è questo evento da me puoi venire da me perché c'è questa comodità bene torna ma allo stesso tempo pensiamo quale altra idea vi posso dare per poter sfruttare Facebook al meglio beh come vedete vi sto dando tutti i suggerimenti che comportano attrezioni di post che siano di interesse per il vostro utente e pensiamo a una persona a un utente che decide di prenotare presso di voi presso un B&B qual è il problema dei B&B? il fatto che non ci sia una reception preseduta H24 quelle lo fanno le TEL i B&B questa cosa non la possono fare quindi c'è la problematica del check-in che magari fanno tardi ma io non voglio avere imprensioni voglio essere sicura che voi non mi lasciate fuori dalla stanza solo perché ho fatto tardi e quindi che cosa si va a fare? si va a rassicurare il viaggiatore che non è un problema guarda noi ti abbiamo fatto il check-in automatizzato noi ti aspettiamo anche le 3 di notte quello poi vedete in base a quello che voi scegliete di fare oppure pensiamo al nostro viaggiatore tipico vengono in macchina bene vi dobbiamo dire se c'è o meno un parcheggio se invece un tipo di viaggiatore che è di passaggio in bicicletta dove la deve mettere sta bicicletta? un tipico viaggiatore che va in treno bene quanto dista la stazione da noi? queste sono tutte informazioni utili per le persone che vanno a aumentare il valore percepito del vostro prezzo nel momento in cui voi non comunicate chi siete che cosa succede? è che le persone vi mettono a confronto di altre strutture e vi sceglieranno in base al prezzo quindi se quell'altro va a fare 50 centesimi di meno sceglieranno l'altro perché voi non le avete dato un buon motivo per sceglierli credetemi quando vi dico che ci sono strutture che non fanno la guerra dei prezzi aumentano i loro prezzi perché se lo possono permettere ma fanno una comunicazione efficace che permette loro di emergere sul mercato e battere la concorrenza se poi ci sono le persone che vogliono la stanza 5 euro quelli comunque andranno da quelli che fanno la stanza 5 euro e credetemi sono quelle stesse persone che nonostante poi si ritrovino tu che scarpaggia vanno pure da lamentarsi che diranno ma io in questo hotel 5 stelle una cosa del genere non mi è mai capitata e grazie non sei in hotel 5 stelle stai pagando abbastanza 5 euro a notte capisci bene che la cosa è diversa ma queste persone esistono e continueranno ad esistere sempre ma voi volete smetterla di abbassare i prezzi della vostra struttura? bene fate come vi dice Alessa seguite il mio metodo seguite il metodo social media hotel che io ho sviluppato per tanti anni e della quale adesso vi sto dando un assaggio per farvi capire quanto una piattaforma come facebook può essere efficace ma la dovete saper utilizzare bene come potete fare? potete iscrivervi al mio corso di formazione corsi.alessiabocampuso.com qui a questo indirizzo email potete iscrivervi vi darò tutte le informazioni necessarie altrimenti non vi volete iscrivere al corso va benissimo così seguite i miei video perché vi fornisco tante informazioni importantissime per rendere la vostra presenza online non efficace di più in modo tale che poi arrivino sempre più ospiti presso la vostra struttura e anche se avete tre camere due camere non sottovalutate il potere delle ads che potete fare su facebook perché credetemi anche con piccoli importi si riescono a ottenere dei risultati molto molto interessanti ma veniamo a noi quindi abbiamo creato questi post ci abbiamo fatti in target perché abbiamo pensato a quello che è il nostro utente tipico il nostro ospite solito che viene da noi e quindi conosciamo le sue esigenze abbiamo messo sotto i riflettori tutte le nostre caratteristiche in modo tale da evitare di fare la guerra dei prezzi sebbene la gente adesso inizia a interagire con noi e quindi che cosa dobbiamo fare? comunicare ci scrivono sul messenger rispondiamo scrivono sotto i commenti noi rispondiamo e per favore non mi fate vedere post o risposte ai commenti dove la gente vi chiede informazioni e voi che fate? mettete il link di booking.com ma no! fate quello sforzo di parlare con le persone non stanno andando su booking sono da te sulla tua pagina e voi in quel modo potete avere un contatto diretto con la persona e prendere una prenotazione diretta non li potete mandare su booking anche perché signori miei state pagando delle commissioni e quelle commissioni per quanto vi possano dare fastidio sapete che cosa sono? tutto quel lavoro di marketing che voi non state facendo perché il marketing è essenziale anche se avete un baby quindi quindi che cosa succede? che nel momento in cui voi non fate lavoro di marketing a qualcuno dovete pagare per farlo al posto vostro in questo caso lo state facendo a booking lo state regalando questi soldi a booking ma nel momento in cui voi vi state impegnando per la vostra comunicazione online e le persone entrano in contatto con voi non li potete mandare sull'uota assolutamente voi state perdendo doppiamente i soldi e credetemi quando parlo di soldi state non parlo solamente di proprio di cash parlo anche di tempo perché il vostro tempo vale soldi soprattutto se siete un B&B che fa tutto da solo e quindi vi occupate della comunicazione delle colazioni di rifare le camere e quindi cosa facciamo? mandiamo all'area gli sforzi? assolutamente no questo da oggi in poi in segnere miei non deve più capitare quegli ospiti sono per voi oro e come tale li dovete trattare poi rispondete alle loro domande e da lì cercate di prendere una prenotazione diretta senza mandarli su booking come vedete la piattaforma di facebook può essere davvero interessante anche per te che sei il proprietario di un B&B con poche stanze davvero i social possono essere il tuo grande alleato per ridurre le commissioni ota mese dopo mese come fare? devi farlo impegnandoti e non devi pensare di poter andare su facebook e semplicemente prendere una foto mettere un post e risolvere in questo modo quindi da oggi in poi iniziamo a studiare facebook iniziamo a sfruttare la piattaforma al nostro vantaggio e vedete come riusciremo a ottenere molte più prenotazioni non vi scordate però che la crescita organica non può andare avanti sì magari avete una solida base di follower però credetemi dovete investire in Anze e ne parrà la pena se lo fate bene se evitate il fai da te dove andate sul tastino e metti in evidenza credetemi che i ritorni ci sono però non vi aspettate centinaia di persone mettendo un euro di budget al giorno non è così anche perché di quelle persone non tutti poi si convertiranno in un preventivo figuriamoci mettendo un euro di budget al giorno semmai vi arriva una richiesta se tutto va bene quindi da oggi mi raccomando utilizziamo facebook in modo efficace e se volete sapere di più come migliorare la vostra presenza online non dovete fare altro che iscrivervi a questo canale attivando le notifiche io vi aspetto nel prossimo video besos